Quanto è stato diffuso dai media dopo lo stupro di Palermo ci deve far riflettere su due fronti. Ancora una volta sulla ragazza stuprata è stata esercitata una doppia violenza, su questo non c'è dubbio. Pensate il fatto che oltre alla violenza fisica perpetrata da questi suoi aggressori c'è anche una violenza doppia, una violenza psicologica esercitata dal fatto che sulle chat sono girati i video di questo stupro, di questo stupro di gruppo. E poi sono girati anche i commenti a questa violenza, una dita barbara che mortifica certamente il genere maschile ed è stata anche diffusa dagli organi di stampa sulla base anche di quelle che sono state le decisioni della magistratura e quindi tutto quanto è stato prodotto dagli inquirenti e dai magistrati per procedere al resto di queste persone. E allora come è accaduto tempo fa quando tutti si chiedevano ma è giusto far vedere le decapitazioni dell'Isis, pubblicare i video, parlarne così almeno dimostriamo quella che è la violenza dell'Isis dove finisce il confine tra il diritto di cronaca e il diritto di privacy. Certo, non c'è proporzione perché si tratta di due situazioni completamente diverse ma anche in questo caso il dibattito si è aperto. È giusto che i giornali pubblichino le chat e quanto è stato scritto e detto e registrato da questi aggressori a questi violentatori è giusto ancora una volta che nella narrazione sparisca completamente la figura della vittima ed invece venga esaltato quello che hanno fatto questi violentatori. Sono due domande che ci dobbiamo porre ma la terza questione, la grande questione è come arginiamo questi fenomeni di violenza gratuita come noi società civile, come noi educatori possiamo dare una risposta concreta, effettiva a situazioni sociali di estremo degrado come quella che è stata vissuta a Palermo. Qual è la risposta che possiamo dare? Qual è la giusta correzione per qualcosa che sta avvenendo? E ci siamo resi conto che non basta soltanto una legge, non basta un provvedimento, non basta un arresto bisogna lavorare tantissimo su un cambio di cultura che deve essere una cultura del rispetto dell'altro e la non violenza una cultura del rispetto di quelle che sono le nostre identità e per far questo bisogna subito partire già dalle scuole elementari bisogna lavorare negli istituti di ogni ordine grado bisogna creare dei pool di formatori che facciano passare messaggi positivi anche sull'uso indiscriminato delle nuove tecnologie perché questa doppia violenza del violentare fisicamente, del distribuire in tutto il mondo immagini di quella violenza è qualcosa davvero di incredibile dopodiché c'è una seconda riflessione cosa è giusto pubblicare e come bisogna scrivere di questi episodi di violenza di come bisogna narrarli attraverso il giornalismo questi episodi di violenza su questo abbiamo tanto lavorato e su questo bisogna costruire un percorso che deve essere diverso rispetto al passato perché, ripeto, esaltare gli aggressori e far sparire la vittima non è per nulla qualcosa che ci possa aiutare in futuro a cambiare questo ordine che vive di disordine questa rivoluzione al contrario di quelli che dovrebbero essere il rispetto la giusta dimensione di una società che si definisce civile tutto quello che è accaduto non ha nulla a che vedere con la civiltà